Un cilento bello e irraggiungibile, Lega Ambiente Campania, attraverso il suo presidente Michele Buonomo, interviene dopo i disagi registrati nella giornata di giovedì sulla strada provinciale 45 ad Agropoli e tira le orecchie agli amministratori cilentani. Da un lato mare, ambiente, cibo invidiato in tutto il mondo, dice Buonomo, dall'altro un sistema di trasporti da maglia nera. Ancora una volta, a ridosso della stagione estiva, dobbiamo registrare l'ennesima per la Campania sul fronte della mobilità e del turismo sostenibile. Arrivare in questi luoghi rappresenta una continua via Crucis. Buonomo è sbottato dopo che ieri, sull'unica strada che costituisce l'alternativa alla cilentana, sono stati avviati dei lavori di messa in sicurezza a causa del cedimento di una piastra posta sul ponte di località Madonna del Carmine, che già due anni fa aveva rischiato il crollo e che continua ad essere pericolante visto il numero di auto in transito quotidianamente. Cosa si aspetta ancora per intervenire, si chiede Buonomo, è una vergogna. La politica, al di là del solito scaricabarile delle responsabilità, assiste passivamente ad una situazione che penalizza chi sta investendo sullo sviluppo turistico sostenibile del cilento, che rappresenta la principale risorsa, il vero e unico petrolio per lo sviluppo economico della Campania. Buonomo teme dunque che i limiti alla viabilità nel cilento possano compromettere altri risultati raggiunti nell'ultimo periodo sul fronte turistico grazie all'impegno verso i temi green. Per il presidente di Legambiente Campania la misura è colma. L'unica nota positiva per l'estate 2016 conclude il ripristino dei collegamenti del metro del mare con le località del cilento.